buongiorno con grandissimo piacere preparo un piatto con di martino con le noci presidio sono fuori della penisola sorrentina per terra madre fantastica esperienza che faccio quasi da dieci anni fresina uno dei formati di martino che preferisco di più eccola qua la mettiamo giù mettiamo un filo d'olio il mio oro l'olio che produco sulle qui sulle colline di montechiaro allora il piatto è fresine con baccalà pecorino guardate che bontà questo baccalà baccalà pecorino e noci di sorrentina eccole qua sono fantastiche eccola qua la noce di sorrentina nel frattempo che rosoliamo il baccalà qua c'è di che esce che stiano così per dire la prima cosa che mettiamo in cottura la presina è spettacolare mettiamo giusto qualche amanda di aglio e un pezzettino di peperoncino perché questo qua è fuoco e giriamo il nostro baccalà eccolo qua un'olio rosolato lo frantumiamo aggiungiamo un altro goccio d'olio lo frantumiamo e aggiungiamo il nostro trinco di aglio e peperoncino e andiamo a rosolare il tutto prendiamo la nostra noce che abbiamo svisciato e andiamo a tagliare a pettine sottili lo aggiungiamo al baccalà e andiamo a tostare il tutto e che sapore è una cosa incredibile c'è un profumo che è la fine del mondo una volta ben rosolato lo bagniamo con un pochino pieno vediamo la pasta che visce e poi non è facile prendiamo un po' di prezzemolo perché ormai il piatto è fatto finiamo sulla pasta bella cronand d'acqua e la mantechiamo per un paio di minuti nel baccalà facendo sì che gli ultimi due minuti di cottura della pasta scarichino un poco di amido perché già sarà cremoso dallo spaldaccio del baccalà però due minuti di amido di pasta ci sta bene per fare una mantecatura eccellente ecco qua aggiungiamo il prezzemolo guardate qua allora le bollicine sono più spesse questa è perché la pasta è per il suo lavoro che sta regalando in più ci sta lo spaldarsi del baccalà e così avremo una fantastica manteca per voi una leggera spolverata di pepe un filo d'olio extravergine come vi ripeto il mio olio che è una cosa grande generoso un bel cucchiaio generoso un cucchiaio in mezzo generoso di pecorino di un buon pecorino e andiamo a mantecare il tutto guardate che cos'è e sta parte non si può raccontare questo si deve solo mangiare e impiattiamo la bella porzione abbondante alla pepe di martino e pepe guid diciamo con tutta la salsetta che si è formata sotto di baccalà noci aglio e tutta la maratana e chiudiamo con qualche fogliolino che ci sta benissimo di di prezzemolo poi ci facciamo una leggera spolverata di lamelle di noci un filo di olio che non guasta mai e guai fresine con baccalà pecorino e noci presidio slow food della penisola sorrentina dedicata a terra madre a pepe di martino e perché no pure a pepe guida ciao